Ciao, sono Nicola, è lucido mio Stralis con la pasta Unipol di Umberto di TrackPoint. La consiglio perché è veramente ottima, è lucida e pulisce a fondo come niente. Ciao, sono Daniele, io al momento guido un Volvo nuovo 540 e uso quotidianamente la Unipol, la pasta consigliata da Umberto. Uso la Unipol, questa pasta è lucidante, questo Polis, l'ho comprato qui da Umberto, mi sono trovato molto bene, lo uso sullo Scania, sul serbatoio, sulla carrozzeria e sui cerchi, è davvero un ottimo prodotto. Rapporto qualità-prezzo ottimo, la consiglio su qualsiasi superficie, sia acciaio che carrozzeria. La usavo anche prima sul trattore vecchio, che dopo essere stato trascurato sono riuscito a rilucidare completamente il serbatoio e anche i cerchi. La pasta è ottima, non c'è bisogno l'uso di lucidatrici varie, semplicemente con uno straccio basta passarla e il serbatoio torna come se fosse nuovo. La utilizzo anche sulla carrozzeria per renderla sempre lucida e fa una patina protettiva contro l'acqua. Ve la consiglio, io mi sono trovato molto bene e davvero fa quello che dice, funziona davvero. Grazie Umberto. È un prodotto ottimo, consigliato, qualità-prezzo, ne vale assolutamente la pena. Ciao a tutti, vi saluto, alla prossima. Un saluto forte a Umberto, da Nicola. Bye.